Ben ritrovati con le news dalla camera di commercio. Ritorniamo a parlare di Expo, la grande esposizione universale che si terrà nell'area di Ropero dal 1 maggio al 31 ottobre del 2015. A poche settimane dall'evento di presentazione della propria progettualità, evento che si tenne alle Villeponte il 7 maggio scorso, la camera di commercio prosegue dunque nel suo impegno per aiutare il sistema economico varesino a valorizzare al meglio la propria presenza all'interno dell'Expo. Il prossimo appuntamento è già programmato per il 14 giugno sempre alle Villeponti quando tutti i soggetti del territorio interessati tra imprese, enti, istituzioni e associazioni potranno presentare le proprie idee e proposte. Di modo che Camera di commercio possa permettere loro innanzitutto di essere quale elemento di valorizzazione appunto di queste proposte e poi magari di metterle in rete, di aggregarle così da dare maggiore forza. Non manca poi la possibilità di pensare anche a delle risorse per garantire a queste iniziative la loro piena concretizzazione. Ma come fare per presenziare l'incontro del 14 giugno e soprattutto come fare per presentare le proprie idee e proposte? Basta andare sul sito della Camera di commercio all'inghierizzo web www.va.camcom.it e compilare un modulo. Inoltre entro il 12 giugno occorrerà presentare la propria illustrazione con una serie di slide da 10 a un massimo di 20 per un numero massimo di minuti di presentazione che non dovrà superare quota 6-6 minuti. Bene, è tutto. Non mi resta altro che ricordarvi ancora che il 14 giugno alle Villeponti i vari soggetti del territorio, grazie alla Camera di commercio, potranno illustrare le proprie idee, le proprie proposte in vista dell'Expo 2015. Grazie per l'attenzione.